Salve a tutti ragazzi, non poteva mancare la recensione di Deadpool. Sì, svegliandosi di mattina, anche nel weekend, non riesco nemmeno a fare una colazione decente, ma cosa ti passa per la testa, dico? Ma che ci fai tu qua? Smettila! Scusate ragazzi, l'altra parte di me è consapevole di essere... Di essere l'ennesimo youtuber che parla di cinema, ma non potevi darti al giardinaggio, non so. Di solito gli youtuber non riprendono il proprio giardino di casa, potresti farlo. Va bene, basta un attimo. Allora, il giardino di... Deadpool di Tim Miller. Un progetto fortemente voluto da Ryan Reynolds e consegnato al grande pubblico con il famigerato vietato ai minori di 18 anni. In America. Qui è un film per tutti. È da mesi che la campagna marketing ci sta avvertendo che non è il classico film di supereroi. Anzi... Non è quello che si impappina? Una volta recati in sala assistiamo a un turbinio di scene eccessivamente volgarie che diversamente dai film della Marvel sono scene che riconoscono i propri limiti ma li superano ampiamente. Il duo di sceneggiatori, Rettrice e Paul Wernick, ricordiamo, gli stessi di Benvenuti a Zombieland, un filmone, si concentrano unicamente sulla figura di Deadpool che viene trattato come un cane, randaggio a briglie sciolte che spara a zero su qualsiasi cosa faccia parte dell'universo cinematografico Marvel e su come si comportano le major cinematografiche quando mettono mano su questa tipologia di film. E ancora si attacca la tipica costruzione narrativa ad hoc riservata a un film sulle origini di un supereroe e si sfottono le star che hanno preso parte a questa gigantesca carrozza che è il filone dei lungometraggi Marvel. Tutto di guadagnato... E' bello, è ancora il DVD fra le mani, mettila a posto. Sì, in effetti. Tutto di guadagnato perché a giovarci è il ritmo sempre fresco, è come se si aggiornasse di continuo per adattarsi alle esigenze dello spettatore che non si stanca mai, rimane sempre appagato dalla visione, piacevolmente appagato perché è intrattenimento allo stato puro che non si fa scrupoli e ti tira fuori un campionario di sequenze battute da film per adulti e ci tengo nuovamente a sottolinearlo. Tengo a sottolinearlo come se i nostri iscritti non si fossero già informati sulla cosa. Ebbene sì, un film per adulti. Ok, non hai capito proprio un cazzo. Che si alterna fra effetti splatter, battute demenziali, comicità slapstick e rottura della quarta parete. E in più il film si ritaglia del tempo necessario a delineare una coppia resa benissimo su schermo quella composta da appunto Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson e Morena Baccarino una ragazza assolutamente deliziosa di una sensualità disarmante e dai tempi del duo Firefly e Serenity serie tv e film che ricopriva il ruolo della principessa Inara Non ti ricordavi il nome? L'hai cercato su internet Che non la vedevo così in forma. Tim Miller, il regista che viene dal campo dell'animazione ha realizzato diversi trailer di videogiochi e cortometraggi qui si cimenta nel suo film di debutto sorprendendo in molti punti. Le due grandi sequenze d'azione con l'iniziale finale che... E dai, di qualcosa, va bene, rifai il pezzo. Le due grandi sequenze d'azione con l'iniziale finale, poche rispetto alla media perché avevano a disposizione un budget limitato e ve lo dirà anche Deadpool nel corso del film sono girate benissimo con un pio azzeccato che scandisce i tempi, riprende con mano ferma le fantasiosi coreografie addirittura Miller si butta a capofitto in evoluzioni ma è fine a se stesse perché potenziano lo spirito comico del personaggio principale. Insomma, Deadpool... Siamo arrivati alla fine di questo video, alleluia! È eccessivo, sboccato, robuante, caotico che varca la soglia del demenziale per diventare qualcos'altro anzi, vi dirò, ridefinisce il suo genere di appartenenza portandola a un livello successivo e sicuramente quando vedremo nelle sale ad agosto sui sales code ci ritroveremo di fronte a un film altrettanto folle ed esplosivo. Qui Antonio Cianci, il raccatafilm... Raccatafilm suona come raccatapalle, ma come ti è venuto in mente il nome? Ok, basta, sei solo frutto della mia immaginazione adesso prendo un bel respiro e poi sparisci. Qui Antonio Cianci, il raccatapalla finito? Se lo avete già visionato, riportatemi qui sotto un vostro parere altrimenti che ve lo dico a fare? Correte in sala a vederlo supportiamo questo film supereroistico Low Budget che vuole acquisire una sua propria identità e poi è stato distribuito dalla 20th Century Fox che l'anno scorso ci aveva consegnato un orribile Fantastici 4 si è ripreso alla grande E... Voto caro, ricordati il voto Ancora tu! Il voto! Lo metterò nell'info box Un saluto a tutti Ciao, alla prossima! Scusate, non ho saputo resistere Al prossimo episodio